La prima domanda è la stessa che l'altro ieri mi ha fatto il Santo Padre. Mi ha chiamato al telefono, al cellulare, una grande sorpresa mia, e abbiamo parlato del libro. E la domanda prima che mi ha fatto era questa, diremo più o meno quello che ho risposto al Santo Padre, ritagliando. Per due motivi, uno perché amo la Chiesa e un'altra perché mi fa male la Chiesa. Spiegherò che significa far male. Amo la Chiesa e pertanto come ho avuto un'esperienza di tante cose bellissime, vissute con questi due pontifici con i quali ho collaborato in tante questioni, io ho visto fatti e detti, insegnamenti anche con la propria vita e con la forma in cui impostavano le cose così belle che mi sembra che è una ricchezza che in quel poco che io possa contribuire, che si mantenga, è per la Chiesa una meraviglia, un dono divino del Signore. Lì due. Il primo, come io l'ho visto e ho scritto sempre così, è un padre della Chiesa, insegnava come padre della Chiesa a conoscere, a trattare, a capire e amare a Cristo, in mezzo a società pagane o che, come la nostra tendenzialmente pagana, e lo faceva con quella intelligenza straordinaria e con quella umiltà che caratterizzava la persona. Un gran padre della Chiesa. Non soltanto per la Chiesa, ma per il mondo. Come i padri della Chiesa hanno di fatto, la cultura mondiale l'hanno arricchito. E l'altro l'ho visto sempre come una incarnazione del buon samaritano, cioè dell'uomo con tutto l'amore di Cristo si avvicina a una umanità in cammino, ferita da tante manifestazioni di quello che noi chiamiamo peccati capitali. La ira, la violenza, l'avarizia, la sete insaciabile e illimitata del piacere, tutte queste cose che rovinano l'uomo e rovinano anche l'intera civiltà, perché producono guerre, invidie, tradimenti. Quindi una umanità ferita da queste cose. E lui, il buon samaritano, che si avvicina e dice venite in questa posata, avete posto tutti. Quindi queste cose, che magari si dicono così in poche parole, sono la vita di due grandi pontificati che con i quattro precedenti dimostrano quanto il Signore ame l'umanità e la Chiesa, perché ha dato una catena di pontifici straordinari. Non ci sono stati tanti insieme in questi duemila anni di vita della Chiesa. E tutti sulla linea di un concilio ecumenico il più economico, il più cattolico, il più universale che ci sia stato. Io amo la Chiesa con tutto il cuore, per cui quando vedo che ci sono delle ferite, mi fa male. E' quello che volevo dire. Quali ferite? Una che mi sembra che significhi la penetrazione nella Chiesa di quello spirito di cainismo che il Papa denuncia nella società umana. E qui si parlava prima. Il fratello contro il fratello, le guerre che non finiscono. Il sinodo attuale, il sinodo della sinodalità, la mia opinione è che si capisce poco. Non il sinodo, che sta già in marcia da due anni. La parola sinodalità, che tiene un'origine greco, non era conosciuta nel linguaggio ordinario dell'Occidente, e significa una parola che sta centrale nel Concilio Vaticano II. Si dice corresponsabilità. Sinodalità è uguale a corresponsabilità. Che vuol dire? Vuol dire che tutti i fedeli nella Chiesa siamo corresponsabili di portare avanti nella nostra vita e nel mondo il messaglio di Cristo. Questo è sinodalità. E lo stesso che chiamare Chiesa popolo di Dio. Cioè, un popolo ha una missione unica che qui devono partecipare tutti. Perché è popolo? Perché non è una casta, non è un gruppo sociale, non è un'elite, è tutto il popolo. Tutti i battezzati abbiamo il diritto e il dovere di vivere e di diffondere il messaglio di Cristo. Dal Papa all'ultimo battezzato. A quel bambino che ancora non sa parlare. Che poco a poco sarà educato a questo. Questo è sinodalità. Queste conclusioni e di questo si è parlato poco anche perché nessuno era dentro. Hanno costituito, come era scritto da un vaticanista in un giornale massima diffusione, come una mina vagante che poteva esplodere nel conclave. Perché nelle conclusioni ci potevano essere delle cose che se non viste e analizzate prima non permettevano a quelli che dovevano volare per eleggere il successore di farlo con sufficiente conoscenza delle cose. E allora che è successo? Che nella prima riunione di questa settimana di preparazione del conclave riuniti tutti i cardinali un gruppo si è indirizzato al... Questo lo accontro nel libro evidentemente al segretario di Stato cardinal Solano no al segretario di Stato cardinal Bertone e al decano del collegio cardinalizio cardinal Solano per chiedergli di comunicare all'assemblea le conclusioni del Vatilix perché loro avevano il diritto a saperlo perché era una commissione del Vaticano organo centrale di governo della Chiesa e loro dovevano entrare al conclave qualche giorno dopo e dovevano eleggere il successore con conoscenza sufficiente di come stanno le cose. Allora Solano e Bertone mi hanno chiamato io ero il presidente di questa commissione che peraltro già non esisteva e mi hanno detto questo sono venuti erano 4 o 5 non voglio far nomi ma di tutti i continenti che vogliono questo allora lei noi non siamo non conosciamo queste conclusioni non erano poi membri di questa commissione lei per favore ma guardi che la commissione non esiste più io non sono presidente della commissione perché non esiste più non posso parlare di un ente che non esiste ma guardi per favore dica qualcosa queste cose la pressione era molto tensa il primo giorno delle riunioni al mattino per favore perché se non si io stavo veramente la questione era perché tutti i giornali ne parlavano di questo tutti volevano sapere le conclusioni sempre c'è di che vabbè io allora io quel giorno evidentemente non l'ho pranzato perché era la luna più o meno ho chiamato agli altri il cardinal Tonco il cardinal di Giorgi dico le cose stanno così che facciamo e che il papa aveva detto a noi e poi aveva dato in un comunicato che avrebbe lui trasmesso queste commissioni queste conclusioni al successore noi le conoscevamo ovviamente e prima di chiamarli della riunione alle 5 alle 4 ci eravamo a vedere ho fatto un progetto di intervento nell'assemblea che non volevo fare da solo ma con loro due mi ho letto mi ha fatto qualche ritocco e alle 5 io mi sono presentato dicendo io non parlo il nome della commissione che non esiste parlo a titolo per volare personale ma ho sentito anche il parere degli altri due e gli ho detto una serie di cose che non possiamo contare non perché siano particolarmente importanti la più importante era questa loro devono considerare come un dovere anche di di cortesia solo sino di venerazione per il Santo Padre anche se è merito che se lui avesse considerato che qualcuno di loro non era degno di essere eletto Papa aveva preso le misure che chiedesse opportune se non ha preso nessuna misura vuol dire che noi dobbiamo dar fiducia alla coscienza del Santo Padre Merito meno male che questo abbassato le acque non che avesse convinto a molti ma la maggioranza sì è andato avanti si è tenuto il conclave e hanno letto a Papa Francesco però è stato un momento di conclusione non hanno io alla sera ho mandato una comunicazione a Castello Gandolfo per raccontare al Santo Padre quello che era successo al mattino nel caso che lui avesse creduto opportuno nonostante che era già in merito fare qualche intervento e mi ha risposto il suo secretario dicendo che il Santo Padre aveva gradito molto l'intervento e nient'altro perché le conclusione non aveva influito nella sua rinunzia ma le avevano tolto un po' di pace nel ritiro di Castello Gandolfo Benedetto XVI la umiltà con la quale lui che porgeva le sue idee i suoi giudizi con una luminosità di intelligenza straordinaria come era la sua lo faceva sempre timidamente con una umiltà che le faceva apparire come un uomo timido essendo invece un uomo di profonde convinzioni questo era così è una lezione di umiltà intellettuale a un grande intellettuale di Papa Francesco io direi la prossimità lo si sente molto prossimo molto avvicinato molto a portata di mano e tutti si sentono a loro agio alla sua presenza e con capacità di dialogare di dire con grande semplicità quello che si pensa io l'ho fatto sempre e ci siamo anche divertiti perché cercavo anche quando andavo a trovarlo di trovare qualcosa che lo facesse un po' sorridere ha tanti problemi seri tante cose e lui stesso è molto favorevole a questo mi divertì quando mi disse che tutti i giorni diceva l'orazione la notte orazione il buon umore di Santo Tomas Moro di Santo Tomas